Noi abbiamo, abbiamo calori, noi abbiamo calori, noi abbiamo calori, noi abbiamo calori. Auguri mister! Paga da bene! 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 No, ringrazio i miei compagni, i miei giocatori per i cori, per gli auguri, però sono tutti in multa, quindi pagare. No, la partita è andata bene, l'abbiamo sbloccata subito. Siamo andati subito in vantaggio, abbiamo avuto un attimo di difficoltà, poi ci siamo riusciti a fare 2-0, inizio, secondo tempo, uguale. Ho fatto fatica, poi dopo l'abbiamo portato a casa tranquillamente. Nonostante la fatica iniziale, altri tre punti portati a casa e si resta nella zona più alta della classifica. Sì, l'obiettivo era quello, di rimanere attaccato al terreno delle prime, l'abbiamo fatto con una vittoria molto importante e avanti così, le prossime partita per partita. Grazie a voi! Grazie! Grazie! Grazie a voi! Grazie a voi!